Tudor Glamour, eleganza e raffinatezza. Se cerchi un orologio da polso che esprima la tua personalità e il tuo gusto, non puoi sbagliare con il modello Glamour di Tudor. Questo orologio è una vera e propria opera d'arte che si adatta al tuo polso, raccontando una storia di classe e raffinatezza che perdura nel tempo. Il modello Glamour di Tudor nasce dalla passione e dalla dedizione di Hans Wilsdorf, il fondatore di Rolex e Tudor. Il modello Glamour di Tudor è caratterizzato da un design che unisce tradizione e modernità, creando un equilibrio armonioso tra estetica e funzionalità. La cassa ha una forma tonda e la lunetta è liscia o con pietre preziose e ciò conferisce un tocco di luce e di contrasto. Il quadrante ha una finitura opaca, lucida o con il motivo Jacquard, con effetti di luce e di profondità. Il quadrante è decorato con indici applicati, a bastone o a diamante, che ne esaltano la luminosità. Le lancette sono a forma di foglia o bastone, con un rivestimento luminescente che ne facilita la lettura. Al centro del quadrante spicca il logo Tudor, con lo scudo simbolo della prestigiosa famiglia, che ne sottolinea l'origine e la qualità. Il Glamour è dotato di una finestra per la data ore 3, che ne aumenta la praticità. Alcuni modelli hanno anche una finestra per il giorno della settimana a ore 12, che ne arricchisce la funzionalità. Il Glamour ha un vetro zaffiro, resistente ai graffi, che protegge il quadrante e ne garantisce la visibilità. Il cinturino del Glamour è in pelle di coccodrillo o in acciaio inossidabile, a seconda del modello, e si adatta perfettamente al polso. Per alcune versioni, al cinturino in acciaio viene aggiunto l'oro giallo che conferisce un aspetto elegante e brillante all'orologio. Il Glamour ha un movimento meccanico a carica automatica, che garantisce una riserva di carica di circa 38 ore. Il movimento è certificato dal COSC, controllo ufficiale svizzero dei cronometri, che ne attesta l'accuratezza e l'affidabilità. Il Glamour ha una resistenza all'acqua di 100 metri, che lo rende adatto a diverse attività, come il nuoto o lo snorkeling.